notata al buio per diverse famiglie di saltara e calcinelli quella appena passata un blackout di diverse ore che ha riguardato la linea elettrica fino a cartoceto sulla quale hanno operato diverse squadre di enel e di privati oltre che i vigili del fuoco intervenuti sul posto chiamati dai cittadini in quattro interventi differenti una concomitanza di diverse criticità verificatesi sulla stessa linea ci specificano dall'unità operativa di enel una concausa di elementi in tre punti diversi ha impegnato le squadre sulla linea elettrica che è stata prima isolata per poi provvedere a ripulire gli isolatori uno per uno il fenomeno al quale hanno assistito numerose persone nel quale della notte non ha un nome tecnico specifico ma riguarda la conduzione elettrica la nebbia di questi giorni quindi un elevato tasso di umidità una concentrazione elevata di salse edine sugli isolatori dovuta alla scarsità di pioggia che non ha lavato gli stessi hanno fatto accendere questi elementi presenti sui tralicci come alberi di natale che squarciano con in olo flash il buio della notte è questo che ha tenuto impegnate le squadre di pronto intervento dalle 21 di ieri fino a quasi le 7 di questa mattina in un lavoro estenuante e faticoso al buio ed al freddo della notte per ridare luce e serenità a tutti i cittadini in un'altra notte per ridare luce e serenità a tutti i cittadini Grazie a tutti.